Nel corso di questa settimana io ho messo un post sulla community dove chiedevo a voi se preferite che io possa trattare all'interno dei miei video un argomento invece che un altro oppure qual è il vostro argomento preferito e ho messo delle opzioni olio, acrilico, disegno, tempera e acquerello e i risultati sono stati molto interessanti non tanto per i voti e per le scelte che avete fatto ma per le vostre motivazioni è proprio per questo che ho deciso il 20 di febbraio quindi martedì prossimo di fare una live per discutere con voi le differenze di queste tecniche e perché scegliere una tecnica invece che un'altra vedremo quali sono le vostre domande che mi avete fatto io cercherò di rispondere a tutti vorrei che fosse un momento di coinvolgimento in cui poter fare anche una specie di riepilogo una specie di puntualizzazione di quanto il canale ha fatto fino adesso e di quello che può fare e di come lo può fare. Nell'attesa vi presento questo lavoro che parla essenzialmente della tecnica che ha la base sia di olio sia dell'acrilico sia della tempera che dell'acquarello che è il disegno e soprattutto il segno la cosa fondamentale che è la ricerca del proprio segno del proprio particolare e unico segno. Spero che sia interessante e sia materia anche questo per di discussione per martedì prossimo 20 febbraio. Vi aspetto tutte e tutti. A presto! un disegno ha origini da ricordi da impressioni da momenti che ovviamente possono essere messi sulla carta come appunti ed io lo faccio spesso avendo davanti a me il mare e questo mi dà l'occasione per sperimentare attraverso ciò che vedo le possibilità del segno che possono essere lievi che possono essere completamente diverse da momento a momento a seconda di ciò che io voglio trasmettere nel disegno attraverso proprio di esso. Vedete questi sono dei piccoli schizzi anche piccolissimi che io faccio e che mi servono come appunto per poi delle soluzioni che io posso trovare anche in studio derivante dall'osservazione derivante della memoria derivante dagli appunti che io ho preso e che però riescono a darmi anche a distanza di tempo l'occasione per ritornare e per ricordare anche quello specifico momento e vedere perché io ho usato quel tipo di segno invece di un altro. E ovviamente con la penna come con la matita come con il pennello noi abbiamo la possibilità di variarlo il nostro segno e soprattutto di cominciare a vedere di poter trovare un un mezzo una cifra stilistica che ci possa permettere di rappresentare quello che noi vediamo attraverso quello che è il nostro segno e la nostra caratteristica principale che è quella di porre la matita, la penna, il pennello sulla tela in modo tale che noi possiamo essere non riconoscibili agli altri ma riconoscibili a noi stessi perché ciò che abbiamo fatto non è frutto di una mera copiatura della natura ma ci accorgiamo che attraverso ciò che noi vediamo possiamo mediare quello che noi vediamo attraverso il nostro corpo e dalla mano metterlo sulla carta, sulla tela, sul foglio, su qualsiasi superficie avendo ben coscienza di ritornare poi a guardarlo e di dire ecco sì io mi riconosco in questo segno e gli altri possono fare altrettanto questo disegno lo facciamo con una penna particolare che è una crystal up della Bic alla differenza con la crystal original che vedete qui sta solo nella sfera l'inchiostro è uguale questa qui la crystal up ha una sfera un poco più grande e quindi parliamo di 1.2 mm ecco il segno che io vado a fare naturalmente devo farlo quando e questo parlo per quanto mi riguarda a me quando io ho un'idea abbastanza precisa di quello che io andrò a fare questa idea mi permette di abbozzare in questo caso il disegno perché voglio che sia una via di mezzo fra qualcosa di estremamente forte e deciso e qualcosa di più soffuso ecco questa idea che io ho del del disegno la metto sul foglio che è naturalmente 14,8 per 10,5 e così riesco a ad entrare dentro ad entrare all'interno di una struttura ben precisa che è quella del disegno che io in questo momento ho scelto di fare quindi vedete questi segni che io amo particolarmente perché sono messi appunto per ricordarmi a me di dove devo riuscire poi ad andare per aggiustarli in modo tale che possano fornirmi quella precico il preciso volume quella precisa intenzione grafica che io cerco fin dall'inizio un esercizio che è fondamentale a mio parere e qui mi rifaccio alla alla presentazione dove parlo proprio di suggerimenti che possono venire dalla natura ecco la cosa fondamentale che che io vi consiglio di fare proprio per avere padronanza del segno e magari di mettere anche dei segni sulla sul foglio di carta senza rappresentare nulla proprio come mero esercizio e cercare di fare in modo che questi segni vengano piano piano nascosti oppure non nascosti a seconda di quanto noi riusciamo a diciamo mimetizzarli con un fondo che poi potrebbe essere strutturato a texture vedete che per esempio quello che sto facendo adesso è una texture abbastanza precisa per cui non ha dentro di sé una caratterizzazione di chiari e di scuri però vedete che io modellando il segno facendolo più leggero e ripetendo esattamente quello che io ho messo sopra posso modularlo questo segno però il segno rimane sempre uguale è più piccolo e più lieve però ha sempre la caratteristica che lega tutto il lavoro è come se vi esistesse una tonalità del segno anziché una tonalità del colore ovvero sia come se il segno mantenesse sempre la sua la sua natalità se vogliamo chiamare la sua appartenenza a me stesso pur cambiando nella sua forma come il nostro timbro vocale che può cambiare naturalmente moltissimo però è sempre riconoscibile o può essere sempre riconoscibile anche anche se noi possiamo alterarlo e quindi la nostra impronta verrà sempre verrà sempre fuori adesso poi vedrete come io quei segni che ho fatto specialmente sulla parte sinistra deciderò di mimetizzarli con il resto oppure di lasciarli in questo modo di lasciarli così naturalmente avete capito che si tratta di nuvola perché le nuvole sono quelle che mi si parano davanti ed io amo disegnare e dipingere paesaggi e ma potrebbero essere solo un pretesto che mi permette di disegnare e di rappresentare il mio segno molto più liberamente che se fossero legati magari a qualche oggetto particolare dove l'oggetto particolare avrebbe avrebbe una forse potrebbe riuscire ad essere quasi più importante del segno che io traccio perché ovviamente le persone quando guardano un'opera guardano soprattutto al significato di quell'opera a cosa rappresenta quell'opera quindi il cielo mi consente di riuscire ad avere la possibilità di astrazione di una astrazione maggiore perché le variabili che tutti quanti noi vediamo nel cielo sono abbastanza imprevedibili e quindi non perché nelle nuvole noi possiamo vedere qualche cosa è sempre qualcosa di diverso oppure qualcosa anche che rassomiglia a qualcosa di terreno come proprio anche delle volte dentro le nuvole possiamo vedere dei profili degli animali delle cose ecco è proprio per questo proprio per questa loro peculiarità che mi consentono anche di prendermi delle licenze da un punto di vista della composizione non quando io le ricopio pedisseguamente oppure ripropongo e studio alla base le nuvole come sono fatte nel cielo ma proprio come quando io come io mi serva di loro per rappresentare appunto il segno sulla carta quando disegniamo o ci interessa rappresentare qualcosa attraverso il disegno prima di fare questo io consiglio veramente una ricerca sul segno io provo un particolare piacere e utilità e lo consiglio a tutti quello di fare dei segni nel foglio di carta che sono utili a governare meglio la mano o meglio a far fare alla mano degli esercizi anche ripetitivi anche che possono possono sembrare noiosi come quello di riempire magari una porzione di foglio di carta con la stessa texture in modo tale che non vi siano parti che siano più scure delle altre con un tratteggio fine oppure quello di fare delle linee più o meno grandi di premere più o meno sulla matita o sul pennello o sulla penna per riuscire ad ottenere più segni diversificati e questo ripeterlo costantemente perché se no noi non abbiamo un esercizio nelle mani di questo tipo è difficile che noi riusciamo a non solo trovare il nostro segno ma a riuscire ad essere soddisfatti di ciò che stiamo andando a fare perché non riusciamo a capire come poter far sì che la nostra mano possa fare quel determinato segno peggio ancora se noi ci possiamo accontentare di quel segno spesso mi viene mi viene chiesto cosa ovviamente può o non andare può andare o non andare in un disegno o in un dipinto ecco questa dovrebbe essere una qualità che noi dovremmo avere dentro di noi perché la soluzione a come potrebbe risultare migliore il nostro lavoro ce la dà solo l'esperienza del nostro lavoro quando all'inizio una persona ti pone davanti un paesaggio o natura morta molto complessa e tu non hai mai dipinto e pensi di fare questa natura morta ecco questo ritengo che possa essere il peggior maestro però potrebbe essere anche il miglior modo per passare il tempo se noi intendiamo come passare il tempo una sorta di gratificazione personale oppure di gioco oppure di non so di di momento ludico proprio senza avere pretesa di esplorare quali sono le nostre possibilità ecco allora può essere può essere anche fatto perché no se invece noi vogliamo imparare a disegnare o imparare a dipingere questo approccio al disegno e al lavoro può risultare dannoso perché ciò che noi ci con perché ciò su cui noi concentriamo la nostra attenzione è il generale e lasciamo da parte il particolare che è quello che riguarda proprio l'unico segno che noi facciamo sul foglio di carta non il disegno in sé ma proprio il segno che noi facciamo quando vedo certe persone che giustamente fanno vedere come si costruisce un volto oppure come si può fare una bottiglia oppure come si può fare un limone tracciando linee verticali e orizzontali chiudendo questo dentro un cubo o dentro un rettangolo o un parallelepipido non contano il fatto che ciò che fanno è subordinato alla linea che loro eseguono per tracciare anche una singola di quelle linee per cui non mi stencherò mai di dire che prima di avere un approccio formale con ciò che noi abbiamo davanti abbiamo bisogno sempre tutti i giorni costantemente di un approccio come dire di carattere segnico riguardo proprio come dicevo prima degli esercizi formali che equivarrebbero quasi al solfeggio per chi suona il pianoforte se noi andiamo a fare una riflessione estrema e un paragone magari azzardato ecco il fatto di dover considerare questi esercizi come importanti e piacevoli da eseguire ci dà l'idea di quanto noi consideriamo importante il lavoro che facciamo e quindi la cura che dobbiamo avere per il segno se noi prendiamo un volto se non vogliamo fare questo tipo di esercizio se noi prendiamo un volto e ne prendiamo un particolare noi possiamo vedere che dentro questo particolare noi possiamo sviluppare una quantità di esercizi enormi senza concentrarsi sul generale perché quello che noi dobbiamo ottenere quando impariamo a disegnare è quello di riuscire ad imparare a mettere dei segni sulla carta non tanto quello di rifare ciò che vediamo sulla carta perché noi possiamo anche avere la possibilità di compiere un'operazione di proporzione straordinaria e avere un calcolo esattissimo di ciò che noi abbiamo davanti e come poterlo riuscire a mettere sulla carta ma la cosa invece fondamentale e ancora più importante di questo è riuscire a mettere sulla carta un segno adeguato un segno che sia in qualche modo frutto non della nostra inesperienza ma invece frutto della volontà che ci ha portato a ricercare attraverso degli esercizi anche sul modello però degli esercizi che tendono a capire quali sono i grandi numeri e le grandi possibilità che noi abbiamo in termini proprio numerico di quantità e di qualità di segni che la nostra mano può fare attraverso la matita attraverso la penna, attraverso il pennello attraverso qualsiasi tipo di oggetto ci serva per tracciare un segno sulla carta e naturalmente sulla tela e naturalmente su qualsiasi superficie come abbiamo detto il segno e il disegno è qualcosa di simbolico qualcosa che ci siamo inventati noi per rappresentare la realtà questo dobbiamo sempre tenerlo presente perché nella realtà non esistono i contorni la definizione del contorno è una definizione simbolica ci serve per rappresentare qualche cosa sul foglio di carta utilizzando un mezzo come quello della rappresentazione apposta che ci consente il riporto di una immagine che possa ricordare un simulacro che noi abbiamo davanti come potrebbe essere un monte un frutto qualsiasi cosa un volto qualsiasi cosa questo è stato sempre nella storia dell'umanità e il fatto che accomuna qualsiasi tipo di di era dagli dall'uomo cosiddetto non letterato che preferisco chiamarlo così l'uomo preistorico fino ad arrivare ad oggi quindi stabilito che questo è un segno astratto un segno simbolico noi dobbiamo avere rispetto per questo e non dobbiamo pensare che il trasferimento sul foglio di carta e l'avvicinamento del nostro segno al modello che abbiamo di fronte non si riduca ovviamente come sempre detto alla copiatura di un modello bidimensionale se io ad esempio copio un disegno di un maestro e per maestro intendo i maestri diciamo della pittura che va dal rinascimento al periodo barocco ecco se noi copiamo un disegno da loro abbiamo assolutamente necessità di osservare qual è stato il loro percorso nella costruzione del segno perché ci accorgiamo che ogni disegno ci rappresenta una loro riconoscibilità noi se guardiamo un disegno di raffaello possiamo ritrovare la sua mano in tutti gli altri suoi disegni così come se guardiamo un disegno di Leonardo molto riconoscibile o un disegno di Pontormo o un disegno di Andrea del Sarto ecco se noi facciamo un'operazione di copiatura di quel segno può essere un'operazione che noi ci possiamo anche permettere di fare anzi può essere anche utile per riuscire a scoprire quali possono essere i modi per cui una persona ha prodotto quell'immagine sul foglio di carta e per immagine intendo quella riga proprio che lui ha segnato e allora se noi tentiamo di riproporla e di riprendere con la matita facciamo un buon esercizio che se lo facciamo all'inizio ci consente di capire di comprendere quali possono essere le possibilità della matita della penna del pennello che noi abbiamo con noi ma se noi questo esercizio noi facciamo invece su un materiale che abbiamo bidimensionale che rappresenta la realtà che rappresenta la realtà così come è presa e quindi non mediata dalla mano che è ovviamente il supporto fotografico la nostra intenzione se non sappiamo a disegnare è quella di riproporre riprodurre ciò che vediamo sulla sulla sul foglio sul foglio e quindi sul rettangolo o quadrato fotografico esattamente quell'immagine utilizzando il nostro segno non tanto come mezzo e come mediatore ma proprio come copiatore come colui che ci deve dare la possibilità di poterlo rappresentare nel foglio e suscitare nella persona che lo vede una una meraviglia riguardo alla cancellazione proprio di esso in favore di una rappresentazione più fedele possibile all'oggetto fotografico e quindi questo come ho detto in tantissimi video sottrae la nostra possibilità di imparare a disegnare e di coltivare la nostra conoscenza del nostro segno in un secondo tempo ma molto secondo noi avremo la possibilità e anche l'interesse a utilizzare il supporto fotografico per lavorare con i nostri con con le nostre opere quindi avere la possibilità di confrontare e di avere anche delle suggerimenti le suggestioni da un punto di vista formale spaziale dalla fotografia però se noi non abbiamo avuto dentro di noi una costruzione una una diciamo una una concreta presa di coscienza del nostro valore da un punto di vista stilistico e grafico allora incorriamo in in scelte che possono essere assolutamente controproducenti per l'avanzamento progressivo della nostra esperienza sul disegno naturalmente se questo lo vogliamo fare se noi vogliamo imparare a disegnare e quindi anche anche a coloro che fanno fotografia viene spesso detto che la fotografia sembra un quadro e quelli che disegnano che la fotografia che il dipinto che fanno sembra una fotografia come se l'uno e l'altro possano intervenire nell'una e nell'altra tecnica per determinare la bontà o meno di un lavoro invece noi sappiamo quanto tutti i protagonisti della storia dell'arte dalla preistoria ad oggi hanno considerato la natura una una ma una maestra quella sì per riuscire a condurre il il segno e la costruzione di esso sul foglio di carta in modo tale che non vi possa essere una mediazione migliore che quella del nostro corpo e del nostro occhio che percepisce la realtà in un modo assolutamente nuovo e unico perché una mela per per me può avere una 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 un significato completamente diverso da quella di qualsiasi altra persona sulla terra una via in cui è avvenuto qualcosa di fondamentale per me se la mettiamo anche da un punto di vista del significato non ha lo stesso significato che può avere per un altro ecco se noi mettiamo tutti questi elementi insieme il segno l'esperienza che abbiamo con gli oggetti e l'esperienza straordinaria che possiamo avere con la natura attraverso l'osservazione in quel momento lì noi avremo compiuto un passo straordinario verso la possibilità di imparare a osservare la mano che disegna sul nostro foglio e capire che quel segno che noi facciamo non va ridotto non va mortificato adesso io comincio a fare il mare ma vi tolgo la parte proprio di costruzione della texture perché potrebbe veramente risultare noiosa però vedete ho bisogno di questo di questo mare scuro questo disegno che ho fatto quest'oggi non è ovviamente il disegno definitivo però volevo farvi vedere lo scheletro di un disegno come questo disegno può essere può essere considerato attraverso gli elementi principali che sono quelli del segno vedete la parte centrale quella che sto facendo adesso la sto smorzando nei toni rispetto ricordate all'inizio al sei segni che avevo messo all'inizio però quei segni dentro con la nuvola dove c'è il bianco li voglio lasciare li voglio lasciare perché rappresentano innanzitutto il passaggio della penna in maniera in maniera importante poi che danno quel tipo di energia al disegno qualsiasi segno che può piacere o non può piacere che è su questo foglio di carta è la mia intenzione di averlo lasciato proprio in quel punto quindi è importante cercare di comprendere come attraverso un range proprio infinito di possibilità noi scegliamo proprio quella per rappresentare in quel modo il segno che poi ci caratterizza e ci caratterizzerà sempre perché l'impronta si può evolvere per un certo punto rimane abbastanza stabile e riconoscibile diciamo che ci sono vari livelli a cui poter giungere e tutti i piani di questo di questo diciamo grattacielo che è l'esperienza e la conoscenza sono bellissimi quindi ci si può fermare benissimo al secondo al terzo al quarto al quinto dove si vuole però ovviamente ci si può spingere fino in alto fino in cima pur sapendo di non poterci arrivare mai però si può tentare veramente di compiere questo questo viaggio con grande tenacia e grande voglia e grande piacere proprio di farlo il viaggio perché come si dice non è tanto la meta la cosa importante ma è proprio il viaggio di per sé e mentre noi facciamo questo viaggio guardiamo la nostra mano che si evolve piano piano sempre di più io provo ancora adesso un piacere proprio fisico lo devo dire a coprire magari una texture a capire un foglio con una testura con un tratteggio completamente uguale sempre uguale che poi utilizzerò proprio nei fogli che io che io andrò a lavorare e con cui io mi esprimerò quindi questo questo canale è proprio un incitamento è una uno sprone vorrebbe essere a questo all'intraprendere questo viaggio che con mille difficoltà però ci fa scoprire una parte di noi stessi assolutamente assolutamente nascosta nascosta proprio anche anche a noi e questo e di questo ne ho esperienza ne ho avuto esperienza varie volte e continuo ad averne esperienza nella mia vita il disegno andrà avanti anche dopo il video e quindi alla fine ve lo presenterò nella sua forma più definitiva che ovviamente questo come sapete fa parte della collezione dei miei biroscape e quindi tutti sono disegni 14,8 x 10,5 dove io poi ho fatto vari video sul sul canale dove 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 li presento quindi prima di lasciarvi alla stesura finale che sarà ovviamente senza parlato di questo mio di questo il mio disegno vi ringrazio di essere qui stati qui e vi invito ad iscrivervi al canale e a mettere un mi piace al video e naturalmente a condividerlo nei vostri profili social e condividerlo anche con amici discuterlo e vi do senz'altro appuntamento a martedì per una live dove risponderò un pochino a tutte le richieste che avete fatto sotto il post della community dove vi chiedevo quale quale tecnica vorreste che io trattassi nel video vediamo insieme quali sono le differenze fra di esse e come poter riuscire a fare a portare questo tipo di contributo sul canale auguro a voi e i vostri cari un buon fine settimana quindi arrivederci a martedì prossimo a presto